Musica The Reunion è prima di tutto un raduno, una riunione, un raduno per appassionati di motociclette classiche, special e caffè racer In più del Reunion è una cosa particolare, ovvero la Sprint Race, una gara d'accelerazione sull'ottavo di miglio nella piena tradizione delle gare che si facevano fuori dai Motorcycles Bar inglesi negli anni 50 e 60 dove sono nate appunto le caffè racers Qui non le facciamo in strada, non le facciamo fuori dai bar ma le facciamo sulle piste, sul circuito dell'autodromo con la maggior appila al mondo ovvero l'autodromo di Monza Musica C'è una sola classe e per partecipare bisogna avere una motocicletta raffreddata d'aria Sette e mezzo per le quattro cilindri e mille per le due tre cilindri Musica Musica Secondo me lo spirito che caratterizza maggiormente questa prima edizione di questo evento e che vorrei che rimanessi inalterato per le prossime edizioni è l'autenticità, perché tutto questo dall'ideazione, dalle collaborazioni, dai volontari che ci lavorano è tutto nato dall'autentica passione delle persone quindi autenticità nella passione e nell'amore per le motociclette speciali le motociclette caffè racer e l'amore e la passione per questo posto meraviglioso che è l'autodromo di Monza Musica 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 Numericumbre! Numericumbre! Numericumbre!